Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi apriamo un'altra casella del calendario dell'avvento di Harry Potter, ma in questo video ci sarà un ospite, cioè una mia amica. Ciao! Allora, noi abbiamo lo stesso calendario dell'avvento, quindi oggi facciamo un video insieme. Bene, allora, ieri era il 17 dicembre, oggi invece è il 18, eccola qua, e quindi andiamo ad aprirla. 3, 2, 1, via! Vediamo cosa c'è. Cos'è? No, vabbè, ho capito. Io no. Io sì. Sì, è il continuo della lettera, è il continuo della lettera quella che abbiamo avuto l'altra volta, nella 15, anzi la faccio rivedere, quella per Harry Potter, che infatti alla fine c'era scritto qui accluso troverà l'elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie. Dove le troviamo? Di qua. Nell'ecetto. Wow! Che bella. Che bella, sì. Ma ci sono sacchi cose. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bellissimo mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.